Sono fermi da questa mattina tutti gli aliscafi in partenza e diretti alle isole a causa del forte vento che nella notte si è abbattuto nel Golfo di Napoli. Vengono garantiti solo i collegamenti con le corse dei traghetti Carman e Medmar. Le prime avvisaglie del maltempo si erano viste il lunedì pomeriggio quando con i collegamenti già singhiozzo, il vento arraffica e il mare che si era alzato all'improvviso, ci sono verificati due episodi che hanno impegnato la Capitaneria di Porto, in particolare sull'isola di Capri dove un aliscafa ha urtato una bitta della banchina del molo ed è stato costretto a interrompere le partenze. La ripresa delle corse veloci non è prevista neppure per le prossime ore anche perché un peggioramento delle condizioni meteomarine è stato annunciato dai bollettini meteorologici. Un peggioramento certificato anche da un'improvvisa tromba d'aria ripresa dalle nostre telecamere che si è abbattuta nel Golfo di Napoli.